Capotreno aggredito, protesta la CISL che chiede maggiore sicurezza e tutela per il personale ferroviario. L'episodio risale alle 20 di ieri sera e si è verificato nella tratta a Firenze-Arezzo sul treno 18789 che da Santa Maria Novella stava andando verso Arezzo all'altezza di Pontassieve Il Fattaccio. Una donna di 40 anni di origine brasiliana ma residente del retino stava dando fastidio ad alcuni passeggeri. La responsabile del treno ha invitato la donna a scendere quando questo si è fermato proprio a Pontassieve. La reazione della brasiliana è stata vehemente al punto che ha aggredito la Capotreno con colpi alla testa. Sul luogo sono sopraggiunti i carabinieri e il personale del 118. Il treno è stato fermo per un'ora mentre la ferita è stata trasferita all'ospedale di Bagno a Ripoli. Il referto parla di 10 giorni con prognosi per la brasiliana immediata la denuncia e la sanzione amministrativa per ubriachezza. Sul fatto dura nota della Cisle il segretario dei Ferroieri Giuseppe Sorrentino ha chiesto maggiore sicurezza e una più marcata presenza di forze dell'ordine sui mezzi pubblici. Sono troppi gli episodi accaduti nell'ultimo periodo, ha detto. La tutela dell'equipaggio è fondamentale anche per quella dei passeggeri. Ed è per questo che abbiamo chiesto un incontro urgente con il prefetto e con l'azienda.